Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con Linea Diretta. Il nostro ospite di oggi è Fabiola Carletto, segretario della CGL di Vicenza. Buongiorno Carletto e benvenuta. Noi l'abbiamo invitata perché la cronaca di queste ore ci obbliga nuovamente a occuparci di un'azienda in crisi qui nel Bassanese, l'azienda in questione si chiama Metalba, è un'azienda metallurgica, una delle più grosse del Bassanese, parliamo di circa 200 dipendenti, c'è uno stabilimento anche a Belluno. Da questa mattina alle 6 i lavoratori hanno incrociato le braccia e sono in un presidio credo permanente di fronte allo stabilimento di Belluno. Si è detto ripetutamente in questo periodo che oramai il peggio era passato, che la crisi era alle spalle e invece a quanto pare non era vero. Sì, purtroppo devo ribadire quello che invece da sempre in questo ultimo periodo e già da qualche anno dicevo che questa crisi purtroppo non è finita e non si vede ancora nessun segnale, avete titolato bene una crisi senza fine e l'ultima è questa per quanto riguarda il nostro territorio che è assolutamente una crisi veramente senza fine e drammatica. Vede stamattina appunto di fronte allo stabilimento di Bassano del Grappa, la Metalba e a Longarone perché questa azienda ha appunto anche una trentina di dipendenti in questa zona, quindi sono 185 lavoratori in presidio permanente, in sciopero anche perché questa azienda anche se azienda sana, sana nel senso che dal punto di vista del prodotto e anche quindi del mercato quindi con potenzialità per quanto riguarda anche eventuali assunzioni perché il prodotto è un prodotto che va bene, è in difficoltà perché da circa un anno e mezzo ci sono crediti con le banche, una decina di banche e la settimana scorsa l'imprenditore ha deciso di lasciare, licenziare il gruppo che stava ristrutturando l'azienda e quindi questa cosa sta creando difficoltà per quanto riguarda il credito. Le crisi delle aziende non sono tutte uguali, c'è chi ha perso il mercato, non ci sono più commesse, però forse anche un piccolo paradosso di questo periodo, spesso dobbiamo fare i conti con delle crisi in cui in realtà l'azienda sarebbe in salute, non gli mancherebbe il lavoro ma il problema è proprio la liquidità, i crediti. Certo, sì appunto se noi pensiamo per esempio alla nostra zona e quindi possiamo citare le situazioni della Bayer, le situazioni per esempio dell'Axonobel, lì dovuto ad altre situazioni, cioè una situazione dovuta alle multinazionali che sono arrivate e se ne sono andate ma di fatto abbiamo perso dei posti di lavoro anche se in realtà non erano aziende che erano in difficoltà, quindi qui non c'era un problema di credito, c'era un problema di multinazionale. Di politica aziendale. Di politica aziendale. Si ritiene che sia più conveniente spostare le produzioni a lavoro. Spostare dall'altra parte. Abbiamo avuto, se vi ricordate, invece la Lamedal, che in realtà lì sì c'era un problema di credito, anche lì di un prodotto che comunque andava ma di un credito appunto che non veniva dato. Qui abbiamo un'esposizione dal punto di vista del credito, parlo della Metalba, già purtroppo già da qualche, da un anno e mezzo insomma e quindi con prodotti che vanno e quindi e con la potenzialità di rimanere nel mercato. Dall'altra parte abbiamo invece situazioni di difficoltà anche dal punto di vista pubblico. Cioè vogliamo dirci che ci sono aziende che per colpa delle non entrate da parte anche dei comuni, dell'amministrazione pubblica, penso all'edilizia che è uno dei settori ovviamente in crisi, non pagano le aziende e quindi ovviamente queste aziende sono costrette prima o poi a mettere, a licenziare i lavoratori. Qui abbiamo diciamo due piani, il patto di stabilità che vincola le spese degli enti locali per cui a un certo punto si ferma tutto. Nel senso non si possono più finanziare lavori pubblici perché bisogna tenere i conti entro certi parametri che sono stati fissati per legge. Un altro caso invece è quando questi lavori vengono effettivamente commissionati ma ci sono dei ritardi mostruosi nei pagamenti. Certo, magari poi subentra anche qualche falimento di qualche azienda, mi viene in mente questa cosa qui di questa azienda qui in via che stava asfaltando le nostre vie qui cittadine che è fallita per cui fallisce l'azienda, ritardi nell'asfaltatura, quindi c'è tutta una catena insomma, ma quello che voglio ricordare è che al centro di questa cosa si sta la persona. Ci stanno le imprese e ci stanno i lavoratori, permettetemi di ricordare che da fine ottobre 2008 alla fine 2013 abbiamo perso in Veneto 90.000 posti di lavoro, 90.000 persone e è un dato in difetto nel senso che se noi aggiungiamo a questi i lavoratori in part time o in cassa integrazione arriviamo a 120.000 persone. E poi dobbiamo aggiungere anche i nuclei familiari, vale a dire in alcuni casi magari si tratta dell'unico reddito che entrava in casa e che viene a mancare. Che viene a mancare con persone che magari, ecco io vorrei ricordare che assieme a questo oltre al reddito che manca, perché ci sono tempi lunghissimi per quanto riguarda la cassa integrazione, dico che qui da noi abbiamo fatto anche per quanto riguarda la cassa integrazione, è giusto ricordarlo, insomma no, abbiamo fatto un accordo per l'anticipo della cassa integrazione per la provincia, ma ricordo che ci sono problemi di finanziamento di ammortizzatori sociali, in particolar modo per quello che riguarda quell'inderoga. Quindi ci sono lavoratori che vedono arrivare i stipendi con molto tempo, con molto ritardo, è l'unico reddito familiare, quindi stiamo vedendo ogni giorno, lo dico da tempo, situazioni gravissime. Se aggiungiamo anche le tipologie di contratto, quindi vorrei dirvelo insomma, perché poi si scandalizzano tutti quando vedono per televisione alcune trasmissioni che fanno vedere situazioni di 2 euro all'ora, 3 euro all'ora, ma non è che stiamo parlando di Roma, cioè dappertutto ci sono queste situazioni. Abbiamo appunto contratti a termine che durano anche 3 giorni. Quando parliamo anche di stage, forme conforme ovviamente di inserimento che sono assolutamente anche interessanti, cioè io se penso al patto sociale per il lavoro per esempio è stata una cosa interessante che ha portato al 34% di inserimento lavorativo di persone, insomma ecco, però ricordo che sono persone che percepiscono 450 euro, se ritorniamo al discorso di prima per cui magari c'è già una situazione di difficoltà, vi rendete conto che siamo veramente in una situazione di grande rabbia da parte dei lavoratori e che nel nostro territorio, continuo a dirlo dal tempo, sembra che non ci sia. Nel senso che Bassano era un'isola felice, anzi una delle zone più sviluppate da questo punto di vista in Veneto e quindi in Italia, ma vi verrebbe da dire in Europa e oggi le cose sono diametralmente diverse. In Italia, citando la Metalba, lei bene ha fatto, perché la Metalba è una, potremmo dire, la seconda azienda più grossa del territorio, nel senso che il Veneto comunque è fatto di piccole e medie imprese, ma è fatto anche di qualche imprese di queste dimensioni, la Baxi o altre, o la Mevis, ma voglio dire, questa è la seconda nel territorio che ha questi numeri così importanti. Per quello che riguarda il Bassanese e la provincia di Vicenza. Se mettiamo insieme, guardate quanti posti abbiamo perso, guardate, io vorrei citarvi anche i dati di febbraio e di marzo, pensate per esempio alla Bassanina come realtà industriale e altre, insomma noi abbiamo, continuo a ribadire, una media di 40, 50, 100 persone al mese, la Cosma Silos per esempio, ecco, ci sono ogni giorno, e sto citando, è un bollettino di guerra, è un bollettino di guerra, queste sono aziende citate che hanno gli ammortizzatori sociali, se pensiamo poi a quelli che addirittura nemmeno si iscrivono all'ufficio ai centri per l'impiego, e quindi è veramente un bollettino di guerra, di cui non ci si sta rendendo conto, ci si rende conto, come stamattina, perché i lavoratori sono all'incorso e presidano e distribuiscono i volantini. Se poi tra l'altro allarghiamo lo sguardo proprio a livello regionale, entriamo in contatto con casi come quelli dell'Electrolux, in cui addirittura si preannuncerebbe un disastro anche a livello sociale se queste aziende dovesse andarsene dal territorio. Assolutamente, infatti su questo per esempio il primo di maggio, Cisiele e Cisleville, ci sarà una manifestazione a Pordenone proprio per ribadire, riportare al centro il lavoro, ma ovviamente in particolar modo per tenere rispetto a questa situazione drammatica dell'Electrolux, far capire in quante difficoltà siamo, ma la difficoltà è veramente enorme, i settori sono quelli classici dell'edilizia, del metallurgico e anche il terzo settore, qualche spirale di luce c'è certamente per il commercio, ma sono spirali di basso e piccoli. Vorrei ricordare che i dati che stanno emergendo è che di una grande disoccupazione giovanile sia il 40%, un paese come il nostro non può permettersi Il 40% a livello nazionale? A livello nazionale, ma anche a livello regionale. Guardate, noi in Veneto abbiamo perso 10 punti di PIL e 6 punti di occupazione in meno, ma vorrei ricordare che ci sono anche molti over 50 e se aggiungiamo il fatto che c'è questa maledetta legge Fornero che ha messo in difficoltà le persone, vi rendete conto che siamo veramente, noi siamo assolutamente preoccupati di questa cosa. Prima ha citato un caso molto locale qui di una strada, però ci possiamo ricollegare anche per quello che riguarda il settore dell'edilizia, visto che stavamo velocemente passando in rassegna quelli che sono i casi della crisi, che come abbiamo visto sono i più disparati dalla delocalizzazione, i problemi di credito con le banche, la mancanza di mercato, c'è poi un altro probabilmente che riguarda aziende che si trovano già in difficoltà magari nell'edilizia e partecipano all'asta pubblica al massimo ribasso. Dobbiamo vincere a tutti i costi perché così magari avremo una boccata d'aria, però alla fine non riescono a reggere perché l'offerta che è stata fatta è talmente bassa che non può essere mantenuta. Sì, qui per la verità già da qualche anno avevamo detto a livello nazionale insieme all'associazione dei costruttori che c'è un problema di intervento legislativo che poi purtroppo non si è fatto perché il fatto di ricorrere appunto a queste aste che poi vanno a ribasso bisognerebbe anche capire come le vincono. Se vi ricordate qualche anno fa c'è stato un problema anche dal punto di vista di poca chiarezza rispetto a questa cosa. C'è un problema insomma perché qui sicuramente quando tu giochi, stiamo parlando non di imprese voglio dire che vanno a fare le pulizie o cose del genere, anche lì tra l'altro al massimo ribasso giocano gli appalti, parliamo di due o tre euro allora anche lì insomma, però qui c'è qualcosa che non quadra perché c'è un subappalto, poi un altro subappalto e così via poco controllo e quindi ovviamente è ovvio che alla fine esca il fallimento come citavo prima di questa, di un'azienda così. Io credo che lì bisogna solo intervenire dal punto di vista legislativo, insomma di certo l'edilizia è un settore che veramente è in crisi, guardate nel 2013 abbiamo perso 18 mila posti di lavoro nel Veneto, edilizia che è stato sempre il settore trainante e su cui io credo si debba riprendere e da lì si possono creare posti di lavoro, che non vuol dire costruire di più, anche perché poco rimane oramai da costruire, assolutamente, ma io penso che si potrebbero fare delle riqualificazioni del territorio, per esempio non so se penso per esempio alla questione pubblica, alle scuole o alla bonifica per esempio anche del nostro territorio, la pulizia voglio dire degli argini dei nostri fiumi, insomma no, per evitare amare inondazioni, ecco c'è tutto questo settore, o la green economy, c'è questo settore che può sicuramente dare posti di lavoro, ecco, perché bisogna creare, cioè perché noi non ritorneremo più ad avere i posti di lavoro di prima, è inutile che sicuramente Dice che non dobbiamo farci illusione? No, io non credo proprio di sì, noi dovremmo, non credo, ritorneremo, ecco, però io credo ci siano delle grandi potenzialità e una di queste penso sia il turismo, scusate l'edilizia, ma penso anche che sia il turismo una delle grandi potenzialità. Che in effetti, dobbiamo dire la verità, il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche, però queste presenze sono concentrate in alcune eosie, si tratti del litorale oppure della montagna o delle città d'arte, magari il lago di Garda, però il resto, dicono alcuni operatori turistici, abbiamo meno visitatori del Molise, con tutto il rispetto chiaramente. Assolutamente, beh, dimenticavo che il manifatturiero comunque è il nostro perno, comunque non è che possiamo dimenticare il manifatturiero, però lei ha ragione, il turismo, se io penso alla nostra città, è evidente, abbassando del grappa, ovviamente penso al Veneto, ma penso alla mia città, insomma, è evidente che qui manca una valorizzazione di quello che sono le potenzialità di questa cittadina, quindi io credo che anche qui… Bisognerebbe riuscire a spandere meglio, abbiamo una città come Venezia che credo si abbia raggiunto 24 milioni di presenze all'anno, per cui è proprio al limite, anzi ampiamente oltrepassato probabilmente il limite della sostenibilità di queste masse di turisti, altri posti invece… Certo, quindi turismo, edilizia, manifatturiero, io credo che lì siano settori su cui bisognerebbe intervenire, ma velocemente, quindi non possiamo continuare a dirci le ricette e non riuscire a fare rete, insomma, e a dire cominciamo dalle piccole… a volte basta anche poco, basta poco. Ma di chi sono le responsabilità qui? Perché alcuni dicono è lo Stato che deve naturalmente provvedere affinché ci siano le condizioni per cui la ripresa arrivi, altri dicono invece no, è il mercato che regola certe cose per cui sono i nostri imprenditori che devono darsi una regolata e ricalibrare le proprie aziende. Beh, io credo che ci sia un problema legato sicuramente al fatto che i nostri imprenditori, adesso parlo di imprenditori del Veneto, ma adesso un po' alla volta però stanno cambiando, cioè nel passato, siccome noi abbiamo piccole e medie imprese, hanno capito poco che era importante mettersi insieme, fare sistema, fare rete, il nanismo non serve di fronte al mercato globalizzato, ma lo stanno capendo, è già da qualche anno che ci sono imprenditori, ma non è solo l'imprenditore, c'è bisogno della politica che aiuti con interventi mirati, non intendo la politica locale per un pezzo, ma soprattutto quella nazionale per quanto riguarda interventi insomma mirati rispetto per esempio a incentivi sull'innovazione, penso per esempio della partita del fotovoltaico, che ha avuto un andamento schizofrenico, tra l'altro anche lì se torniamo alla questione dell'edilizia prima, non solo edilizia ma proprio nuovi modi di fare impresa anche, abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo dato a pioggia, incentivi, vedevamo pannelli fotovoltaici dappertutto, adesso abbiamo chiuso. Io ho visto aziende che sono passate, hanno avuto un boom, avevano assunto, sono arrivati a 60 dipendenti, adesso sono retrocesse una decina scarse. Addirittura qualcuno ha chiuso, la zona del Padovano, se qualcuno ecco, la zona del Padovano che era piena, aveva parecchie aziende di questo tipo, molti hanno chiuso, quindi schizofrenico, hai detto bene, schizofrenico l'andamento, quindi c'è una situazione in cui la politica è schizofrenica, se ci va bene a dirlo, a volte è schizofrenica, a volte è proprio assente, insomma, quindi ecco, credo ci sono delle responsabilità che sono, io non vedo anche adesso nessun tipo di, non vedo io, non vediamo noi, ma non credo noi solo come sindacato, anche gli imprenditori non lo stanno vedendo queste cose, insomma, gli imprenditori che riescono e sono quelli che magari da soli hanno sperimentato, certo che c'è il rischio dell'impresa, il rischio di presa, è ovvio che sia così, però io credo che la politica deve aiutare, insomma, l'impresa per cercare di creare posti di lavoro e lo vedono anche loro, la politica, io continuo a vederla, assente rispetto a questa perdita di posti di lavoro, stanno facendo così, almeno fino adesso, io non ho guardato, a prescindere dal tipo di governo, l'ho sempre detto, noi guardiamo le cose che si stanno facendo, ho citato prima l'accordo con la provincia, come potrei citarvi l'accordo con la regione a suo tempo, quindi a prescindere dalla tipologia di persone, insomma, che amministrano, insomma. Tra poco io entrerei proprio nel merito dei provvedimenti che si stanno adottando in questi giorni o che vedremo se verranno adottati proprio per favorire la ripresa in Italia in generale, però io prima avrei una curiosità da chiederle, perché abbiamo parlato di edilizia e spesso gli analisti sostengono che l'edilizia è un settore trainante per l'economia, cioè se si riprende l'edilizia sostanzialmente si riprende tutto, ma perché è vera questa cosa? È sempre stato così, è sempre stato così e io tra l'altro lo seguivo qualche anno fa, insomma l'edilizia è così, perché l'edilizia è legata a tutta la parte dell'indotto, no? Cioè chi fa il pavimento, no? E quindi il prodotto legno, insomma, no? Cioè vuol dire se ci sono pavimenti, cioè è tutto il settore che poi segue la costruzione della casa che è ovviamente trainato dal settore dell'edilizia, quindi è evidente insomma che, tanto è vero che noi ci siamo sempre detto, nel momento in cui crolla, si ferma l'edilizia è il segnale più, è peggiore insomma rispetto ad altre situazioni, se penso all'orofo, vuol dire quello è legato al mercato o ad altre situazioni, ma l'edilizia quando si ferma è quella che appunto denota che c'è una crisi strutturale molto forte e che se non viene… Perché è una questione di indotto, quindi mi dice, c'è una reazione a domino… A catena, a catena, perché l'edilizia è creata appunto tutta la questione poi del metallo meccanico, appunto di lavorazioni, di tutto insomma, di tanti altri settori che sono legati appunto alla questione di questo comparto, insomma. Ascoltando i nostri imprenditori, le categorie produttive, veniamo, sostanzialmente esce fuori un quadro di questo genere, non tutto va malissimo, si è creato, si sta creando in quest'ultimo anno un'economia a due velocità in Veneto, vale a dire le imprese che esportano, che lavorano molto con l'estero, stanno andando molto bene, in alcuni casi si parla di un vero e proprio boom, viceversa chi deve fare i conti con il mercato interno va sempre peggio. Sì, beh, per la verità è sempre stato un po' così, nel senso che chi ha lavorato, le imprese che lavoravano in particolar modo solo con il mercato italiano, sempre hanno risentito in momenti di crisi, anche nelle crisi passate, penso alle crisi dell'80 per esempio, perché è ovvio insomma, è un mercato molto chiuso, quindi è vero che chi invece apre al mondo, stiamo parlando di economia globalizzata, insomma… Certo, deve fare i conti con una concorrenza enorme e magari difficilissima. E dov'è che… quali sono però le imprese che vedono luce? Poca luce ma la vedono, non le imprese che si competono a basso prezzo o con prodotti di basso livello, ma imprese che lavorano con prodotti di alta qualità, no? Certo. Tanto è vero che la stessa crisi fa emergere che le persone che perdono lavoro sono in particolar modo persone oltretutto over 50, ma quindi che hanno purtroppo poca, bassa manovalanza, insomma, ecco, per fare un collegamento, per dire cosa, per dire che dove si investe in qualità, tecnologia, queste cose qua, è qui il ruolo della politica, no? Ovviamente si possono vedere di segnali di luce, che devo dire, ribadisco, sempre positivi segnali, ma sono sempre segnali ancora piccolini, voglio dire. È una nicchia chi lavora con l'estero in Veneto, nel senso che numericamente non sono… È una nicchia. E poi, al di là della nicchia, bisogna vedere anche la tipologia di prodotto. Io ricordo il legno che sapete che purtroppo ha avuto un disastro, soprattutto qui nel nostro territorio, io ricordo aziende di grandi, molto anche conosciute, anche di ottima… che avevano già patentato e che magari hanno già lesto, penso al mercato americano, perché erano dei mercati dove appunto… ma lì ovviamente sono state così sconfitte purtroppo da chi produce a basso costo e imitando malinchi prodotti di bassa qualità. Anche perché, infatti, come diceva lei, giustamente lì bisogna puntare sulla qualità, perché dalle altre… veniamo chiaramente battuti da altre nazioni dove il costo del lavoro è più basso. Non è solo la Cina, possiamo essere battuti da questo punto di vista anche da paesi che stanno emergendo adesso e che ovviamente troveremo sempre qualcuno che è disposto a copiare prodotti a produrre prodotti di poca qualità, è così, insomma, quindi non è su questo che devi fare, devi proprio intervenire su prodotti di alta qualità, innovazione. Dunque, se vogliamo risollevare l'economia, a quanto pare, dobbiamo rimettere in moto il mercato interno. Bisogna far ripartire i consumi, ma se la gente naturalmente ha pochi soldi in tasca è un po' difficile e in questo si inquadra uno dei provvedimenti del governo Renzi che ha avuto più visibilità in questo periodo, i famosi 80 Euro in più in busta paga, sostanzialmente come ha detto il Premier si tratta di una quattordicesima, penso che si arriva quasi a 1.000 Euro. Sì, sì, non discuto quello che ha detto il Premier Renzi che gli 80 Euro sono sicuramente in un periodo di crisi come questi dove facciamo anche poca contrattazione, ovviamente in secondo livello sono una quattordicesima. Io spero che riescono ad entrare nelle buste paga dei lavoratori perché vorrei ricordare che innanzitutto i pensionati non li percepiscono. E questo è un problema. E questo è un problema grossissimo. In un territorio, ma non solo in Italia, ma nella provincia di Vicenza, dove di cosa tanto le pensioni variano dai 500 ai 800 Euro lordi, quindi non stiamo parlando di milionate, insomma, no? Non stiamo parlando delle pensioni di manager o di altro. Ecco, quindi, primo i pensionati non le percepiscono, i lavoratori disoccupati non le percepiscono. Chi le percepisce? Chi è intorno a un reddito di 24.000 Euro. Ma ieri sera, a questa notte, io non ho visto ancora interventi che ci garantiscano che c'è la copertura di questi 80 Euro. Non ho visto. E se la copertura, tra l'altro, dovesse avvenire attraverso altri tagli, no? Eh, sarebbe preoccupante, eh, perché... Tu dici, finché si taglia, si mette un tetto agli stipendi dei manager. Beh, benissimo, benissimo. Ma non mi pare che ci sia questa volontà, perché c'era qualcuno che aveva detto, io, tra l'altro, vergognoso di fronte, fare delle affermazioni di fronte a persone che perdono i posti di lavoro, no? E che non vivono nemmeno con, citavo le 400 Euro, ma con le due, quindi è vergognoso fare affermazioni di questo... e l'abbiamo rinominato anche manager, tra l'altro. Sì, esatto. Detto questo, detto questo, dico 80 Euro, benissimo, noi siamo assolutamente contenti. Bisogna dire che di fronte a quella uscita il Presidente del Consiglio aveva detto se non gli va bene può accomodarsi. Sì. Però dopo l'hanno messo da un'altra parte, effettivamente. Sì, gli hanno detto di accomodarsi, però poi... Però dopo l'hanno fatto accomodare da un'altra parte. L'hanno fatto accomodare da un'altra parte. Quindi io credo che di fronte veramente... ecco, qui dimostra quanto lontani sono dei problemi delle persone, perché vuol dire che non sentono, perché uno che esce con una frase del genere o è così sfacciato, o non si rende conto di quello che sta vivendo, cioè non vede mica la persona, cioè probabilmente lui non incontra le persone che non hanno da mangiare, non le non incontra queste persone qua. Tornando agli 80 Euro, spero che trovino la copertura finanziaria, perché se è così ci va bene, anche se pensiamo che dovrebbe essere... Potrebbe effettivamente avere un effetto positivo nella ripresa dei consumi, oppure c'è talmente tanta diffidenza, vista la situazione di crisi e di scarsa prevedibilità di ciò che accadrà in futuro, magari la gente non spende, perché comunque preferisce tenere tutto... Sì, guardi... Poi siamo anche un paese di risparmiatori per lui. Sì, sì, potrebbe essere l'una e anche l'altra cosa. Io incontro per il patto sociale ogni mese lavoratori giovani e meno giovani e sto vedendo che c'è una situazione ovviamente difficile dove ci sono le persone che, ripeto, non hanno il pasto, non hanno il pasto. Quindi potrebbe esserci un effetto di risparmio, perché tra l'altro fino adesso è andata bene anche nel nostro territorio, perché purtroppo si sono consumati anche i soldi che si erano messi da parte. Quindi ci potrebbe essere l'effetto che lei diceva prima, cioè di mettere da parte questi soldi, mettere da parte... è anche difficile perché quando arrivano poi le bollette o la spesa dentistica è dimostrato che molti non vanno nemmeno più a fare... non solo i pensionati, anche i lavoratori dipendenti non vanno a fare le viste, quindi un effetto di non mettere da parte o il fatto, sì, che girare l'economia, sa cosa penso io, che invece di andare ai discount, molti forse torneranno a prendersi qualcosa di diverso. Insomma, ecco, questo è quindi positivo per carità, per quello che... Ma non è sufficiente, insomma, bene, intanto che trovino le coperture, perché qui continuare ad annunciare, guardate, io sono perché se si conosce la realtà, quando si annuncia una cosa bisognerebbe averla già in tasca, non si può, insomma, ecco. Invece continuare, è un mese che stiamo annunciando, la gente è stanca, ormai tu vai a chiedergli ma sti 80 euro, insomma, che ci arrivino, no, sti 80 euro, perché ormai la gente è stanca. Più si va avanti, più si arriva alla scaletta, qui vedremo se arrivano o no. No, io auguro che questi soldi arrivino, perché sarebbe un problema per i lavoratori, no, ma anche per le enunciazioni che si fanno, insomma, ecco, perché bisogna... Qui abbiamo toccato il fatto che gli 80 euro non riguardano le pensioni, che se vogliamo è un'ingiustizia, non solo per quanto sono basse le pensioni, per la maggior parte dei nostri pensionati, parlavamo prima in provincia di Vicenza, mi diceva, la maggioranza sia sui 500 o 600 euro, ma anche perché non gli si riconosce il ruolo sociale che hanno giocato in questo periodo, nel senso che di fronte all'aumento della disoccupazione, spesso il vero ammortizzatore sociale sono state le pensioni proprio dei genitori. Guardi, mi fa piacere che mi faccia questa domanda, perché guardate, è proprio vero quello che lei dice, se non ci fossero stati i genitori, e non parlo di figli dei bamboccioni come dicono, ecco, sto parlando proprio di famiglie, se non ci fossero state le famiglie alle spalle, ci sarebbero state situazioni ancora più drammatiche, e quindi è veramente un'ingiustizia, perché tra l'altro ricorderei che queste persone che sono in pensione, perché continuano a mettere i pensionati, i vecchi contro i giovani, ma vorrei ricordare che queste persone sono quelle che hanno rifatto l'Italia finita la guerra mondiale, tanto per dire, insomma, ma detto questo, sono stato il vero welfare, allora io mi chiedo, e l'ho chiesto tante volte, mi chiedo se quando è stata fatta la riforma Fornero, per esempio, si è pensato che per quanto riguarda le future generazioni, al di là del fatto che le persone che andranno andranno con pensioni assolutamente misere, guardate, se i contratti, le tipologie di contratto saranno quelle che sono, già 46 tipologie abbiamo, le contrattuali, ne aggiungiamo sempre di più noi, ma se saranno di questo tipo, si andrà proprio a livelli di fame, insomma, come ecco, ma se questo, insieme al fatto che ci saranno intanto le mamme che non potranno più aiutare nemmeno le figlie per tenere i bambini, proprio il cosiddetto welfare, insomma, io non lo so che tipo di Italia andremo a costruire, sicuramente in Italia con delle difficoltà dal punto di vista, certamente, dei diritti e soprattutto del welfare, ecco, tanto è vero che molte aziende si stanno strutturando per fare un welfare interno, per aiutare per un welfare interno. Infatti, bisogna iniziare ad aggiungere, non esiste più lo Stato mamma, sostiene qualcuno, quello che interviene in questo genere, di casi bisogna iniziare ad arrangiarsi da soli. Da soli, però bisogna anche dire che non tutte le aziende riescono a farlo, cioè, quando si parla di contrattazione territoriale, regionale, invece che nazionale, benissimo, però io vorrei ricordare che non riusciamo a farla dappertutto, perché quando parliamo, le nostre aziendine erano dei 3 ai 10 dipendenti, insomma, no? C'era una contrattazione che era familiare, più che altro legata a qualche superminimo, ma non si faceva una contrattazione vera, insomma, ecco, però... E sul superminimo, perché si sta discutendo anche di salario minimo in questo periodo, ma qualcuno è un po' preoccupato, proprio dal punto di vista del sindacato, perché dice che così non si fa più la contrattazione. Beh, io ho anche delle perplessità, devo dire la verità, io sono perché ovviamente il salario si è legato a una tipologia contrattuale, insomma, a un lavoro, insomma, altrimenti diventa assistenza e quindi a me preoccupa, insomma, no? Io credo che la carità è una cosa, invece il lavoro, diciamo sempre, la Costituzione è nata per questo, insomma, no? La dignità del lavoro è fondamentale. Questo non vuol dire però che non bisogna intervenire per chi non ha lavoro, è una cosa diversa, per cui se facciamo, interveniamo sugli ammortizzatori sociali, quindi legati un po' a tutti, queste cose qua, fa una differenza, e innanzitutto sulle politiche attive del lavoro, politiche attive del lavoro di cui pochissimi parlano, ma io sono stanca di vedere politiche attive del lavoro, perché, ripeto, vedendo le persone del patto sociale per il lavoro, li senti, cioè le politiche attive del lavoro dovrebbero essere vera formazione legata alle esigenze del territorio, smettiamola di fare corsi di inglese, con tutto rispetto per l'inglese, se a Bassano, nel territorio veneto, abbiamo bisogno di pasticceri, banalizzo, ma abbiamo bisogno di pasticceri, facciamo, formiamo le persone che sappiano fare i pasticceri, insomma, perché altrimenti non è che, anche attraverso le politiche attive del lavoro, si creano posti di lavoro. Lui bisogna anche superare una barriera culturale che si è creata in questo periodo, vale a dire che nelle famiglie si preferisce giustamente far studiare il figlio al liceo classico, poi all'università, magari però per facoltà che hanno pochi sbocchi lavorativi. Certo, sì, c'è un problema culturale delle famiglie, ma io credo sia un problema anche legato alle scuole, c'è un problema di famiglia, certo, chi di noi non vorrebbe che il figlio andasse a fare l'avvocato, quindi ovviamente anche per un riscatto sociale fa parte, ma credo sia un problema anche legato alla scuola, all'orientamento scolastico, insomma, ecco, quindi alcune scuole vengono viste come emarginazione, insomma, secondarie, ma proprio come le persone che vanno lì perché non sono in grado di non fare altro. Io ricordo invece ci sono state delle scuole che avevano, penso all'orafo per esempio, erano state fatte delle sezioni, delle scuole in cui questo settore poteva, aveva la potenzialità attraverso la formazione di queste scuole di creare delle figure, insomma, ecco, il problema è che bisogna dare continuità, questo è il punto. Allora, noi siamo già arrivati al termine del nostro appuntamento, però io le chiedo, Carletto, se possiamo chiudere con un segnale di speranza, c'è qualche dato positivo o qualche dato che ci fa ben sperare? Guardi, a me dispiace, tra l'altro, io non so se vengo sempre vista come l'uccello del malaugurio, non vorrei, non è questo, insomma, anzi, io sono per… Diciamo che lo diciamo per Scaramanzia. Lo diciamo per Scaramanzia, no, io però dico una cosa, non mi piace nemmeno, cioè io quando vi parlo ho sempre parlato di dati che non sono i miei, cioè della mia organizzazione, ma sono sempre dati o della provincia o di Veneto Lavoro, quindi non sono dati sindacali, quindi quando vi parlo di 90.000 persone che hanno perso il posto di lavoro di un centinaio Bassano, è tra le seconde, è nella provincia che perde, non sono i dati di Fabio e la Carletto. Quindi ci tengo a dire questo perché non mi piace nemmeno, perché vedo a volte anche i miei colleghi che in trasmissione dicono tutto va bene e il giorno dopo dicono che tutto va male, io non sono schizofrenica, quindi come parlavamo prima della politica, e dico le cose vanno analizzate, non bisogna nascondere, bisogna appunto affrontare i problemi e vederli per quelli che sono. Dico come dicevamo prima che ci sono sicuramente delle imprese eccellenti che stanno andando bene e che hanno ovviamente per la tipologia di prodotto, per la qualità di prodotto e perché vanno bene, ma se io ho il dovere di guardare la realtà, io posso dire ho due positività, ma se su cento ne ho due, dal punto di vista di chi rappresento faccio fatica. Credo che la Baxi abbia un segnale, ma non solo, insomma se guardiamo oltre al territorio guardiamo la Mavis, guardiamo la Manfrotto, ci sono delle aziende che si occupano di cosa. Sono quasi due metalmeccaniche, insomma aziende anche superiore alle 50 unità lavorative. Però voglio dire, ma se io guardo però il resto del territorio, che è il nostro territorio, però c'è il territorio che ha fatto queste eccellenze, ma è fatto purtroppo di 5-10 dipendenti, noi abbiamo medie di 10-20 domande di cassa integrazione che arrivano ogni giorno, allora perché non dire alla gente queste cose? Perché no? Perché io spero che vedendole, cioè io non è che voglio dirle alla gente, i lavoratori le vivono sulla propria pelle, ringrazio la trasmissione, scusatemi perché è una delle poche che permette sia attraverso i telegiornali che attraverso anche questi approfondimenti di fare emerse, perché io spero che a forza di vederli, no, qualcuno, non sono i lavoratori che devono capire, ma che qualcuno si dia una mossa, no, perché se no è un problema, è un problema che scoppia in maniera, credo, drammatica. Allora, in attesa di questa mossa, che speriamo arrivi anche con i provvedimenti che sono adesso al vaglio del governo, quindi poi del Parlamento, noi dobbiamo salutarci, salutiamo quindi Fabiola Carletto, segretario della CGL di Vicenza, ringraziamo per aver accettato il nostro invito, lavoriamo, un lavoro tra l'altro sperando che arrivano sempre meno richieste di cassa integrazione. No, dimenticavo proprio la luce del fatto, scusi, del fatto che non si guardano, no, che la settimana prossima per quanto riguarda la metalba ci sarà un incontro con la regione e l'assessore Donazzan rispetto alla metalba, per dire che noi nel nostro territorio abbiamo sempre lavorato in maniera, insomma, a prescindere, insomma, perché così si farete, insomma, su queste cose con le istituzioni locali, quindi ecco, mi ero dimenticato prima, ed è giusto che lavorano, che sappiano anche, ecco. Va bene. Ringrazio a voi, auguro una buona Pasqua a tutti voi, insomma, ecco, vi ringrazio. Ve l'auguriamo anche noi, ma naturalmente avremo altre occasioni di vederci prima di Pasqua e vi auguriamo anche un buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneto. Arrivederci. Grazie a tutti.